La Calabria, come è noto, è una regione sottoposta a piano di rientro ed è commissariata dal 30 luglio 2010. C'è un periodo dunque di circa 9 anni, circa 10 anni, di gestione commissariale. La gestione commissariale che è nata ed è stata realizzata sulla base di una valutazione di inefficienza della Regione a rispondere in termini di riorganizzazione dei servizi sanitari avrebbe dovuto realizzare entro un tempo determinato gli obiettivi di riqualificazione del sistema e di rientro dal debito, sostanzialmente. Cosa è avvenuto nel corso di questi anni? È avvenuto esattamente al contrario. Vorrei ricordare agli onorevoli membri di questa Commissione che Il primo decreto di nomina del commissario nella persona del Presidente, il mio predicepessore Scopelliti, conteneva 12 punti di funzioni che venivano assegnate al commissario. Il successivo, quello di Scura, ne contiene 16. Quello attuale, quello di Cotticelli, 23. In questi punti è compreso tutto, tranne la nomina dei direttori delle aziende. Oggi, 2019, il Consiglio dei Ministri si riunisce il 18 aprile in Calabria. Mai i governi si sono riuniti in via straordinaria in un territorio. Nemmeno in caso di terremoti, di calamità, di situazioni straordinarie. Io mi aspettavo quindi che, proprio per questa straordinarietà, si determinassero provvedimenti tali da corrispondere. Nel decreto, che è oggetto di discussione, non c'è un euro in questa direzione, appunto, non solo. Ma nel decreto ci sono somme, 790 mila euro, una cosa di questo tipo, tutte concentrate all'aumento delle indennità dei nuovi commissari, 50 mila euro di aumento, più 20 mila per spese e missioni, con la motivazione nella relazione che io ritengo personalmente assolutamente inaccettabile, perché nella motivazione si dice che l'imborso delle 50 mila euro, l'imborso delle spese documentate, eccetera, ciò nell'ulteriore ed ancora più convinta considerazione che essendo massimamente auspicabile che i soggetti scelti per l'incarico commissariale provengano al di fuori del contesto professionale ed ambientale della Regione. È assolutamente inaccettabile questa considerazione. E nel dire questo non dico che bisogna che siano della Regione, ma che non bisogna, non si può accettare, lo dico in qualità di Presidente della mia terra, non si può accettare appunto di catalogare i professionisti come incompetenti o magari qualcosa di più, o magari carichi di rognosa criminalità o illegalità. Non va bene questa cosa. E siccome questi sono atti parlamentari, io respingo questa impostazione, lo dico consapevolmente e con determinazione, questa impostazione. che non fa altro appunto che buttare fango su una Regione che non merita fango e giustificare operazioni di altra natura. Non va bene. Chiedo al Parlamento di riflettere, lo chiedo al di là delle collocazioni e delle magliette politiche su questo dato rispetto ad una Regione che è una Regione dell'Italia. Non è il Burundi la Calabria. È una Regione dell'Italia la Calabria. Poi permettetemi di dire che non c'è una norma, non c'è una riga, non c'è un comma che tratti la questione, il cuore appunto, della sofferenza della sanità calabresa, che è quella della carenza di personale medico e paramedico. Non va bene questa cosa qui. Si presenta un provvedimento straordinario con una seduta straordinaria del Consiglio dei Ministri che lo assume e non c'è una norma per affrontare il cuore della questione. Noi abbiamo una carenza di oltre 1.400 medici. Sono dieci anni di commissariamento e otto anni di blocco del turnover. Otto anni di blocco del turnover. E se immaginiamo quello che succederà adesso con quota 100 in termini di pensionamenti a valanghe che ci saranno, cosa si determinerà nel sistema sanitario calabrese? Ma è possibile che un provvedimento straordinario annunciato con tanta solennità per far fronte alle condizioni gravi del sistema sanitario calabrese non assuma un'attenzione minima rispetto a questi aspetti? Noi abbiamo più volte sollecitato il Ministro ad aprire un tavolo l'8 di luglio dell'anno scorso non vorrei sbagliare la data se l'8 o il 18 ma l'8 di luglio del 2018 nel primo incontro che il Ministro ha fatto con i Presidenti delle Regioni io ho posto l'esigenza di aprire un tavolo specifico sulla Calabria cosa sollecitata e reiterata più volte mai realizzata. Io vi chiedo quindi di valutare attentamente queste considerazioni perché noi abbiamo una sola esigenza quella di fare in modo che i calabresi possano essere tutelati nella cura della propria salute. in questa sede io sono venuto in qualità di Presidente della Regione rappresentante di tutti i calabresi perché ho sentito capisco che siamo in tempi nei quali la cultura delle istituzioni va scemando ma mi preoccupa il fatto che parlando di sanità calabrese si carichi il colore della maglietta. Io ho avuto polemiche aspre sono note, sono pubbliche non sono un'invenzione di questa sera nessuno può negare questo con i governi con i Presidenti del Consiglio del partito a cui io appartengo in modo pubblico con toni anche aspri e anche ricorrendo qui è stato ricordato da qualcuno a pronunciare iniziative forti quali quelle dell'incatenamento. Poi per quanto riguarda la domanda che è stata posta a proposito del Direttore Generale noi abbiamo fatto un avviso nell'ambito delle nuove regole che come sapete prevedono un albo nazionale e la manifestazione di interesse da parte delle regioni per cui coloro i quali sono nell'albo nazionale possono esercitare la facoltà di dire io sono disponibile ad esercitare la funzione di Direttore Generale in una regione perché la selezione delle qualità la fa la regione dei requisiti la fa la regione la regione fa una manifestazione di interesse a cui possono partecipare esclusivamente coloro i quali sono già compresi nell'albo nell'albo nazionale quindi praticamente anche su questo punto vorrei essere vorrei essere chiaro anzi per quanto riguarda questo aspetto il decreto revoca revoca le procedure già avviate per i direttori generali e guardate sono procedure che si revocano rispetto a quel quadro di riferimento non a una decisione del Presidente della regione rispetto a un quadro di riferimento nazionale perché si dà facoltà di andare oltre l'albo nella scelta dei commissari come? si 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 mi sapete dire qual è la razio di questa cosa? la razio uscire fuori dall'albo nazionale con avviso indetto dal Ministero della Salute qual è la razio di questa norma? siccome voi state esaminando il decreto vi prego di approfondirla questo aspetto non sto parlando di decisioni calabrese sto parlando di un quadro di riferimento generale nazionale chiaramente non ho detto che appunto i direttori generali devono essere calabresi lo dico all'onorevole all'onorevole Boldi questo non ho detto questo io io ho detto che non si può mettere un discrimine con una motivazione per giustificare questo aumento perché si è assurdo cioè il Parlamento non può in un suo atto sancire appunto rispetto ad una regione qualsiasi regione del paese una impostazione di questo di questo tipo perché io non l'accetto questo e nel dire questo non vi sto dicendo devono essere calabresi vi sto dicendo che i calabresi concorrono alla pari dei Lombardi dei Veneti dei Laziali cioè concorrono le professionalità non ci può essere come dire una specie di marchiatura diciamo da questo punto da questo punto da questo punto di vista con il Ministero della Salute non interloquisce Oliverio io non ho avuto mai la possibilità di avere una convocazione dal Ministro della Salute il Ministro della Salute convoca i commissari poi anche l'altra considerazione che si faceva vorrei che questo fosse chiaro relativamente ad alcune aziende sanitarie in modo particolare a Reggio Calabria e ad altre anche circa appunto situazioni di illegalità di illegalità vorrei l'ho detto stamattina in un'assemblea che c'è stata organizzata alle organizzazioni sindacali ho fatto fare una ricerca negli ultimi 15 anni nell'aspe di Reggio Calabria 10 quasi 10 9 qualche mese sono stati gestiti da gestioni commissariali concertate con il Ministero degli Interni sto parlando di una cosa precisa oltre i commissari anzi nell'ultimo anno c'è stato il commissario ad acta che è stato anche commissario dell'azienda di Reggio Calabria ancora c'erano gli spazi di avere un approccio di creare le condizioni di un rapporto collaborativo il rapporto collaborativo non è nelle relazioni istituzionali affidato alla volontà è affidato a regole e la regola è quella non di dire la regione pieni poteri e lo sta no è quella di costruire un rapporto per cui c'è una funzione di accompagnamento di controllo di verifica da parte del potere centrale ma di assunzione di responsabilità della regione in questo caso perché da dieci anni la regione è spoliata io non a caso ricordavo che nella giunta io in questi circa cinque anni fra qualche mese non ho mai assunto un atto deliberativo perché non potevo perché non ho il potere perché i poteri in quei punti che sono stati elencati nei decreti che affidano le funzioni ai commissari sono trasferiti interamente interamente ai commissari interamente ai commissari non si vuole assumere questo percorso naturalmente ognuno assume le proprie responsabilità io ritengo che non si affronteranno i problemi e mi auguro di non essere profeta di sventura me lo auguro per la mia terra non si affronteranno i problemi con questo percorso non si affronteranno perché i problemi si affrontano se si va come dire al merito delle questioni e non ai contenitori ma al merito delle questioni e con questo decreto purtroppo il merito non si affronta vi prego rileggetevi via via che lo approfondirete lo esaminerete questo decreto i contenuti di questo decreto perché non affrontano i problemi che sono quelli dei servizi e della riorganizzazione della sanità della sanità in Calabria affrontano solo il problema di passare quello scampolo di poteri che naturalmente a questo punto ve lo dico qui io io non sono interessato ve lo dico in una sede istituzionale in modo che sia chiaro io non sono interessato il governo può già decidere di prevedere il passaggio della nomina diretta io non sono interessato perché a me non interessa l'intesa sui nomi no non mi interessa la dico in questa sede formale che appunto è autorevolissima perché lì è previsto che il commissario fa l'intesa sui nomi con il presidente della regione e se questa intesa non c'è decide il governo può già decidere il governo ve lo dico subito non sono interessato io sono interessato a un altro percorso che non è quello della come dire spartizione dei nomi non mi interessano io sono interessato a un altro percorso che è quello di affrontare i problemi del servizio sanitario di riorganizzarlo e farlo con un altro percorso naturalmente anche rispetto alle questioni che sono state sollevate nell'intervento che io ho apprezzato diciamo per i contenuti dell'onorevole Carnevali noi paradossalmente in un periodo nel quale si discute di autonomia finanziaria stiamo differenziata stiamo spogliando appunto creando un precedente pericoloso questo ve lo segnalo stiamo spogliando una regione di scampoli di potere che sono state già riappropriate ve lo segnalo questo io sono stato parlamentare qui ho fatto dal 92 al 2006 quattro legislature ho fatto due piene e due mezze e so come funziona questi precedenti saranno come dire il cavistello perché in futuro appunto si possono aprire altri varchi perché quando c'è un precedente non si può dire che valeva per quell'occasione e poi non vale e questo è un precedente pericoloso lo dico in qualità di precedente di una regione che non condivide l'impianto per come è stato posto dell'autonomia differenziata ma che ha la consapevolezza che c'è un problema di riflessione a 40 anni e più a 50 anni dall'esperienza regionalista circa il fatto che bisogna rivedere appunto l'assetto dello Stato tenendo conto di una domanda di autonomia che c'è e va considerata che c'è